Signori, durante i miei viaggi in lungo e in largo per le vastissime lande del crogiolo ho visitato destinazioni alla ricerca di articoli che a volte mi hanno rubato il cuore e altre mi hanno lasciato profondamente perplesso. Per ogni città, villaggio o roccaforte dove mi sono recato una tappa è sempre stata fissa, l'emporio, ed è lì che grandi tesori si celano in attesa di essere scoperti e mostrati, portando a conoscenza di quante più persone possibili la loro esistenza. In questo viaggio, visitando la Tetra di Mora, mi sono recato personalmente nel mercato locale, dove mi è stato suggerito un prodotto che desterà l'attenzione degli appassionati del TCG, targato Disney. Bentornati quindi in un nuovo appuntamento dell'emporio del crogiolo. In questo episodio il mercante consiglia l'illuminar strove del terzo atto di Lorcana, Into the Inklens. La scatola presenterà l'immagine di Pimpi, Jafar e Stitch con l'icona ed il titolo del set di riferimento del TCG in questione, assieme al logo della casa produttrice, il tutto tra due colonne in stile dorico e in trama tradizionale sulla parte frontale, il solo nome del gioco riportato sulla parte superiore, ancora le tipiche icone di riferimento con le figure di Minnie, Zio Paperone e Peter Pan, che verranno fuori da altrettante finestre esagonali, il tutto sempre su trama color sabbia sul lato destro, e Vaiana, campanellino e pongo su quello sinistro, le diverse informazioni legali del caso esposte sul fondo, ed il contenuto del prodotto, sia illustrato che descritto sulla parte dorsale. Una volta aperta la confezione attraverso la linguetta strappo, vi ritroverete dapprima ad osservare il logo iconico di Lorcana, poi al suo interno una seconda scatola che, per il coperchio, riporterà la stessa immagine della principale, e lungo i bordi ripetuti in alternanza sia il nome del GCC che il logo del gioco menzionato poco fa. Mentre per il corpo principale ci saranno le raffigurazioni di alcuni tra i luoghi più comuni ed importanti presenti sotto forma di carta, tra i quali si potranno notare l'isola che non c'è, la montagna proibita, la Jolly Roger, il luogo dell'esilio di Maui, ed infine un'illustrazione inedita, o almeno credo, correggetemi nei commenti se andrò errato, che vedrà alcuni dei personaggi più famosi provenienti dai classici Disney correre in sella a strani marchigegni volanti alimentati a luce. Il contenuto all'interno della scatola vedrà 8 booster pack del set di riferimento, dentro i quali non ho trovato molto, ma il pool di carte mi ha comunque permesso di avvicinarmi sempre più al completamento dell'intero set, andando a colmare un paio di spazi vuoti all'interno del raccoglitore, dei divisori realizzati in cartone duro, che riprenderanno sia da una parte che dall'altra della rispettiva superficie il logo e la tonalità dell'inchiostro di riferimento, un set da sei dadi a sei facce, con la finitura siderale che ha caratterizzato il primo capitolo con numeri dorati incisi su ogni lato, che potranno tornarvi utili per segnalare i danni presenti sui character che deciderete di utilizzare in partita, ed un lore counter in cartone, con perno centrale in plastica, che oltre a presentare una livrea specifica e dedicata esclusiva per chiunque deciderà di acquistare questo articolo, vi aiuterà anche a tenere aggiornati i progressi che farete durante un match, con l'unico scopo di raggiungere il tanto desiderato ventesimo punto leggenda. E a proposito di acquisti, converrà effettivamente prenderne una copia? Il suo prezzo indicativo si aggirerà attorno ai 60 euro, e tra divisori, segnapunti, dadi e booster, ci troviamo leggermente sotto il valore dell'intero articolo. Quindi la risposta sarà sì e no, a seconda della categoria alla quale apparterrete. Mi spiego meglio. Per i no, se il vostro obiettivo sarà quello di sedervi ai tavoli da gioco, non credo che questo sarà il prodotto che più vi interesserà. Per voi ci saranno i booster box o gli starter, che di sicuro risponderanno al meglio alle vostre esigenze. Mentre per i collezionisti, assolutamente sì. Magari prendendone due. Uno da aprire, perché ho notato che, essendo il corpo principale bipartito da un compartimento a due settori, esso potrà ospitare carte comuni e non comuni che apparterranno alla vostra schiera di elementi da vendere o scambiare. Magari separate tra loro, grazie proprio ai divisori di cui abbiamo già parlato, così da avere tutto a tema l'orcana. E l'altro rigorosamente sealed, da proteggere a priori in una teca, possedendo in questo modo un articolo che potrà o far parte della vostra raccolta personale, o essere venduto in futuro quando i tempi saranno più maturi. Prima di concludere, volevo ringraziare Luca, proprietario del Magician Circle, per aver fornito l'articolo trattato in questo contenuto. Come sempre, tutti i riferimenti li troverete in descrizione. In più, se vorrete ottenere la vostra copia direttamente dal venditore, potrete visitare questo fine settimana il loro stand al B-Comics di Padova. Li troverete lì, assieme a molti altri articoli da acquistare. Concludendo, l'Illuminar Strove sarà la gemma rara della vostra collezione a tema l'orcana, ed assieme ai due precedenti articoli, sempre della stessa categoria, andrà a formare un tridente di attacco che arricchirà ancora di più la vostra già ricca raccolta. Ma, anche se da solo, senza i due fratelli maggiori, di sicuro non sfigurerà. Bene, è arrivato il momento di iniziare un nuovo viaggio verso mete più o meno distanti, dove gli empori del luogo riserveranno per me e per voi i loro tesori nascosti. Ci vedremo in un prossimo appuntamento di questa rubrica non appena sarò tornato dal mio girovagare. A presto! Grazie!